Musica Buongiorno e benvenuti al TG2000, vediamo subito i titoli. Ancora poche ore per votare, il rischio contagi non ferma gli elettori, almeno 40% all'affluenza alle urne, nel pomeriggio inizierà poi lo spoglio per il risultato di referendum regionali. Si celebra oggi la giornata internazionale per la pace, oltre 400 milioni i bambini che vivono nelle zone di conflitto e come se non bastasse alla guerra si aggiunge il pericolo coronavirus. Andiamo poi in Sicilia per ricordare l'omicidio del giudice Rosario Livatino, ucciso 30 anni fa da un commando mafioso. Sulla figura del magistrato Mattarella richiama la necessità di resistere alle intimidazioni della mafia, opponendosi a logiche compromissorie e all'indifferenza. In apertura dunque parliamo del fine settimana elettorale. Buona l'affluenza intorno al 40%, le urne, lo ricordiamo, resteranno aperte fino alle 15. A quel punto inizierà lo spoglio e il doppio verdetto sul referendum costituzionale è quello per eleggere sette presidenti di regione. Augusto Cantelmi. Il virus non spaventa il voto urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 con un'affluenza al momento intorno al 40% per referendum regionali e al 50% per le amministrative. Alla chiusura delle urne inizieranno gli scrutini delle suppletive in Sardegna e Veneto del referendum costituzionale e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di domani e un invito ad andare a votare arriva dal presidente del Consiglio Conte. C'è sempre l'ospicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di referendum approcattivo o costituzionale che ci sia una partecipazione dei cittadini. Punto, mi sono qui. Si tratta di un voto dalla forte valenza politica. Il referendum confermativo senza quorum prevede il taglio del numero dei parlamentari da 945 a 600. Quindi le elezioni in sette regioni, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Grande attenzione anche per il risultato delle amministrative in oltre mille comuni. I dati sull'affluenza ci dicono, l'avete sentito, che i timori del contagio non hanno influenzato gli italiani mentre rimangono alte le misure di sicurezza e prevenzione in tutto il paese comprese le università che riaprono agli studenti proprio oggi. Letizia Davoli. Quello che è appena passato è stato un fine settimana con dati in discesa per i positivi al Covid-19 in Italia dopo il picco di venerdì con oltre 1900 contagi. Tra sabato e domenica i positivi sono scesi a 1587 con un numero di tamponi passato però, come di consueto nel weekend, da più di 100.000 ad 83.000. Continua invece la lenta salita dei ricoveri in terapia intensiva dovuta all'aumento dell'età media dei contagi, ma cala il numero dei morti. E mentre si aspetta di capire se e quanto possa pesare nel progresso della pandemia la riapertura delle scuole si avvicina anche la riapertura dell'università. L'appuntamento è per fine settembre e inizio ottobre con sistemi di didattica mista come all'Università di Palermo. La scelta che ha fatto l'Ateneo è stata quella di far partire in presenza i corsi non particolarmente numerosi. La scelta proprio è quella di garantire la massima sicurezza quindi assicurare il distanziamento, assicurare le mascherine. Naturalmente resteranno in distanza i corsi invece particolarmente numerosi dove invece non avevamo questa possibilità. Lezioni in presenza fondamentali anche per la Lums a Roma dove gli studenti potranno pronotare il posto in aula grazie ad un'app che serve anche per un eventuale tracciamento dei contatti. Un docente farà regolarmente lezione da ciascuna cattedra con la variante, con l'innovazione che ogni lezione grazie a microfoni, telecamere e computer sarà trasmessa in sincrono per tutti coloro che per diversi motivi non potranno essere presenti in aula. Questo è un modo per continuare ad essere una università strettamente connessa con le persone. Nel mondo però la situazione è ben diversa. In Francia i contagi giornalieri sono a quota 10.000 mentre oltre metà del territorio nazionale è stato dichiarato zona rossa. Intanto negli Stati Uniti si superano i 200.000 morti. Federico Plotti. Quasi un milione di morti e oltre 30 milioni di casi. Il coronavirus continua la sua inesorabile diffusione nel mondo. Sono sempre gli Stati Uniti il paese più colpito dalla pandemia ma è l'India a far registrare l'escalation più preoccupante con quasi 100.000 nuovi positivi al giorno. Nel paese asiatico dall'inizio dell'emergenza sono ormai 5 milioni e mezzo le persone contagiate. Nonostante questo proprio oggi riapre al pubblico uno dei monumenti più visitati il Taj Mahal, il mausoleo bianco di Agra, poco a sud di Nuova Delhi che aveva chiuso i battenti a marzo quando in India il coronavirus ancora non faceva così paura. Cresce la preoccupazione anche in Europa. Dalla Spagna con Madrid semi chiusa dove scoppia la protesta contro le restrizioni alla Germania dalla Repubblica cieca all'Olanda ma la situazione più critica resta sempre quella della Francia. Ieri oltre Alpe sono stati oltre 10.500 nuovi contagi e 300 i morti. Anche la Gran Bretagna le prese con un pericoloso ritorno del virus. Dopo il lockdown imposto in diverse aree del paese, 15 milioni le persone costrette a restare a casa, le autorità stanno valutando la possibilità di chiudere anche la capitale Londra. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha chiesto al Vaticano di non rinnovare l'accordo con la Cina affermando che se lo facesse metterebbe a rischio la sua autorità morale. Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito Comunista cinese sperando di aiutare i cattolici cinesi, scrive Pompeo, ma malgrado questo, sottolinea il segretario di Stato americano, gli abusi sui fedeli da parte del Partito Comunista cinese sono solo peggiorati. E oggi si celebra la giornata internazionale della pace istituita dall'ONU il 30 novembre del 1981, occasione nella quale ricordare che ancora nel 2020 415 milioni di bambini vivono in area di conflitto. Beatrice Bossi. Alle bombe quest'anno si è aggiunto anche il coronavirus, neanche ai paesi martoriati dalle guerre, il Covid dato scampo. In Afghanistan, a seguito della diffusione del Covid-19, 14 milioni di persone hanno avuto bisogno di assistenza umanitaria e più della metà sono bambini. Solo nel nord-ovest della Siria, invece, proprio quando c'era più necessità di presidi sanitari, più di 84 ospedali sono stati bombardati. Nello Iemene, infine, nei mesi in cui a terra si combatteva contro il Covid, dal cielo le bombe si raddoppiavano. Stavo andando alla moschea per la preghiera della sera. Ho cominciato a sentire in cielo gli aerei da guerra. Mentre stavo per entrare, sono stato colpito dal frammento di un missile. È stato un attimo. Mi sono accasciato. Ho provato a rialzarmi, ma non riuscivo più a muovere. Rami ha 15 anni, è dello Iemen, e l'associazione Save the Children ha raccolto la sua testimonianza. È rimasto gravemente ferito da un bombardamento, sopravvissuto. Ne porterà tutta la vita alle conseguenze. Sono 415 milioni i minori, come lui, esposti oggi al fuoco incrociato delle armi e del virus. Per questo, il tema scelto quest'anno per la giornata internazionale della pace è Shaping Peace Together, ossia diamo forma insieme alla pace. Perché solo con la collaborazione di tutti i paesi del mondo si può rispondere alla minaccia globale della pandemia. Guerre e persecuzioni legate anche a quanto accade a Lampedusa, dove nelle ultime ore si sono registrati 26 sbarchi. David Murgia. 26 sbarchi di migranti, più di uno all'ora, si sono registrati nella notte a Lampedusa, dove lo spot supera ormai le mille presenze a fronte di una capienza di 192. Si tratta di 12 barche con 263 migranti tunisini per la maggior parte. A lune 30, 85 migranti sono stati rintracciati dai carabinieri subito dopo uno sbarco autonomo a Calapisana. Alle 3 e mezza, a Molo Favarolo sono sbarcati dopo che i loro tre barchini erano stati agganciati nelle acque antistanti, 11 tunisini e 39 libici. Intanto, a Mola Madonnina è arrivato un barchino con 14 tunisini. L'ultimo sbarco questa mattina, una trentina di migranti sono arrivati su una barca nella spiaggia di Torre Salsa, nell'Agrigentino. Appena arrivati sono scesi e si sono diretti attraverso i sentieri della riserva naturale nell'entroterra per raggiungere la strada statale 115. Una situazione insostenibile. Sta accadendo che c'è bel tempo e gli sbarchi stanno aumentando in maniera esossa. Quindi abbiamo qualcosa come mille persone di cui oggi 500 li stiamo trasferendo in Sicilia. Stamattina ne sono partiti 150 con la nave di Libri. Ora ci sono cinque motovedette che stanno arrivando per trasferirne 350 sulla nave Vapsodi che momentaneamente ferma a Porta Impero. Omicidio-suicidio nella notte a Rivara, nel Canavesa alle porte di Torino, dove un padre ha ucciso il figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita. L'uomo, un operaio metalmeccanico di 47 anni, ha sparato al bambino e poi ha rivolto l'arma verso se stesso. Secondo le prime ricostruzioni, soffriva di depressione. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Torino. Se la Chiesa non è in uscita, si ammala, così Francesco nell'Angelus di ieri, commentando la parabola dei lavoratori chiamati dal padrone della vigna e pagati tutti. Allo stesso modo il Papa spiega che Dio dà il massimo della ricompensa anche agli ultimi, come al buon ladrone sulla croce. Ma ascoltiamo dal vivo un passaggio delle parole di Papa Francesco. Chi ragiona con la logica umana, cioè quella dei meriti acquistati con la propria bravura, da primo si trova ultimo. Ma io ho lavorato tanto, ho fatto tanto nella Chiesa, ho aiutato tanto e mi pagano lo stesso di questo che è arrivato all'ultimo. ricordiamo chi è stato il primo santo canonizzato nella Chiesa. Il buon ladrone. Ha rubato il cielo nell'ultimo momento della sua vita. Questo è grazia, così è Dio. Si apre oggi a Roma, fino a mercoledì 23 di settembre, la sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. I lavori saranno introdotti dal Cardinale Gualtiero Bassetti. Tra gli argomenti che verranno affrontati, la scelta del tema principale dell'Assemblea Generale dei Vescovi, che ricordiamo è stata rinviata al prossimo novembre per l'emergenza sanitaria, ma anche una riflessione sulla condizione attuale del Cattolicesimo Italiano. Verranno inoltre ripresi i contenuti dell'incontro mediterraneo, frontiera di pace che si è svolto a Bari per un rilancio dell'iniziativa. Trent'anni fa veniva ucciso il giudice Rosario Livatino. Vediamo allora il servizio di Pierluigi Vito e a seguire il commento di Paolo Borrometi. La mattina del 21 settembre 1990, il magistrato Rosario Livatino, a bordo della sua utilitaria rossa, stava andando al lavoro, percorrendo la statale per Agrigento. Nessuna scorta, era da solo la guida quando all'altezza di Contrada Gasena venne intercettato e ucciso dai sigari a soldati dalla Stidda, l'organizzazione mafiosa attiva nell'Agrigentino. Non aveva ancora compiuto 38 anni. Sostituto procuratore al Tribunale di Agrigento dal 1979 e poi giudice a Latere, aveva condotto importanti inchieste contro la criminalità organizzata locale, utilizzando in particolare lo strumento della confisca dei beni. Affidava tutte le sue giornate alla tutela di Dio, Rosario Livatino. Cattolico fervente, per lui tutto era questione di vita o di morte, ma prima ancora di vita vera e di fede limpida, ha detto oggi il presidente della CEA, il Cardinal Bassetti, in una messa celebrata in memoria del giudice, per il quale è in corso il processo di beatificazione, conclusosi nella fase diocesana in attesa del vaglio del Vaticano. Oggi nel trentennale dell'assassinio del magistrato, tante le commemorazioni previste, a cominciare dalla sua canicattì, dove il centro studi Pio La Torre vorrebbe realizzare una casa-museo nell'abitazione di Livatino e per questo ha lanciato un appello al capo dello Stato, il quale ha ribadito come la memoria di Rosario Livatino richiami alla necessità di resistere alle intimidazioni della mafia, opponendosi a compromissioni e indifferenza. Giudice ragazzino, giudice di frontiera, Rosario Livatino fu appellato, dopo la sua brutale uccisione del 21 settembre del 1990, in tanti modi, ma forse l'unico che avrebbe voluto è soltanto giudice. Il giudice Livatino, esattamente la sua passione di sempre, che lo aveva portato, dopo un brillante percorso di studi in giurisprudenza, al tribunale della sua provincia, Agrigento. Il suo impegno fu da subito connotato da indagini difficili, anzi difficilissime, quelle sugli interessi economici della mafia, sulla guerra di mafia nell'Agrigentino, sull'intreccio tra mafia e affari, delineando fra i primi giudici il sistema della corruzione. Uomo di grande fede, riservato ed inavvicinabile. Peculiarità che trovano spazio nella sentenza che ha condannato esecutori e mandanti del suo omicidio. Ucciso perché perseguiva le cosche mafiose, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista. Aveva 38 anni quando venne ucciso e il più giovane dei 27 magistrati caduti in servizio. Si stava recando in tribunale quella mattina, con la sua auto e senza scorta. Quattro sicari della Stida, l'organizzazione mafiosa che tenne testa alla più famosa cosa nostra, lo fecero sbandare. Livatino uscì dall'auto, cercando salvezza, fuggendo per i campi. Ma già ferito, venne freddato con un colpo di pistola al volto. In fondo alle sue agende, gli inquirenti che indagavano, trovarono una sigla misteriosa, STD, che li mise a lungo in scacco, finché non scoprirono l'arcano. Il significato era sub tutela dei, nelle mani di Dio. Si è svolta ieri sera a Los Angeles la cerimonia degli Emmy Awards, il premio internazionale della televisione tra misure di sicurezza mai viste prima e riconoscimenti inattesi. Silvio Vitelli. Inizia così la 72esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della TV, col comico Jimmy Kimmel, che viene accolto dalle ovazioni dei tantissimi personaggi dello spettacolo che popolano la platea. Ad un tratto, però, il colpo di scena. Tra di loro si può scorgere lo stesso Kimmel, seduto in poltrona e allo stesso tempo in piedi sul palco. Ed ecco che il trucco viene svelato, la sala in realtà è vuota, riempirla era stato solo un effetto speciale. Vanno dunque in onda i pandemi, così li hanno ribattezzati gli autori. Emmy in versione pandemia con i 138 candidati collegati dalle rispettive case in 114 diverse località del mondo. La rete tv americana HBO vince con Succession, miglior serie drammatica su una famiglia che controlla un colosso media, e con Watchmen, miglior miniserie ispirata da quella omonima a fumetti. Ma il vincitore assoluto è stato Schitt's Creek, con ben cinque premi nella sezione serie comica. La sitcom canadese prodotta dalla tv pubblica CBC racconta le vicende di una ricca famiglia caduta in disgrazia e costretta a vivere in un faticciante motel. Il TG termina qui, adesso è il momento di terza pagina e il nostro approfondimento culturale. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.